ciao jo allora ho visto il tuo video ho fatto ancora prima un video però ero troppo arrabbiata con me stessa quindi ho detto delle cose che per me hanno un senso ma per tanti no quindi l'ho cancellato e ti metto questo video che sono più tranquilla ecco forse sono più nervosa perché aspetto la telefonata che mi chiamano per fare bypass e non mi chiamano ecco allora in quanto riguardo in quanto riguarda la che sei venuto dalla palestra e mangiato tanto la ti do un consiglio da una obesa deve stare attento la sera mangia una insalata con tono la carne sì ma sempre con insalata vicino ti dico io come sono dimagrita all'ospedale allora la mattina caffè latte latte o tè con quattro fette biscottate se vuoi marmellata se no vabbè così alle 10 devi mangiare per forza fare un spuntino quindi una mela un yogurt o delle barette al cioccolato a 65 calorie la baretta quindi devi 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 regolarti se vuoi ti mando volentieri un fax con con le cose con quante calorie hanno che stai un po attento tu o tua madre chi ti cucina è vero che mi diceva una ragazza non gli amici ti ingrassano sì è vero che non gli amici ti ingrassano io sono obesa perché ho fatto l'intervento al collo quindi da da quell'intervento io sono arrivata a un schifo però quando cominci a mangiare da quello da quello più il tuo metabolismo arrivi a un a un certo peso che è difficile riesce a gestirlo come l'anorezia quindi sono stesse cose ma una parte vista da un lato un'altra da un altro lato non se hai mangiato il gelato non puoi mangiare anche kebab kebab non non lo devi vedere perché ha tante calorie pure io con gli amici per questo dico anche la ragazza che mi ha scritto gli amici non ti fa ingrassare io con gli amici a me piace tanto i pistacchi prendevo mezzo chilo quindi mangiavamo insieme due tre persone 100 grammi di pistacchi sono 500 calorie io mezzo chilo di pistacchi li mangio anche da sola quindi quando la dottoressa mi ha detto ma quanti pistacchi mangi mangi al giorno perché ho detto che sono pazza di pistacchi e le ho detto anche mezzo chilo cosa no tre quattro pistacchi io da sta parte cosa ma è una offesa tre quattro pistacchi neanche a una caria non mi arriva cioè non posso non comincio a mangiare pistacchi se devo mangiare solo tre quattro quindi ti dico che mangiando un compagnia mangi per me ti dico dal mio punto di vista io mangio di più io prendo kitosan vabbè acqua kitosan 800 che mi fa prendo due che mi fa confia li prendo con un quarto di ora prima di mangiare che mi fa gonfiare più prima quindi provo da mangiare mezz'ora provo da mangiare venti minuti che così il cerevelo questa me ha detto psichiatra non lo so però ho visto che è vero che il cerevelo ti fa capire che sei sazio non mangiare ancora è vero che venti minuti a una insalata con tono proprio insalata quella che ti rimane qua tra i denti lo porti fuori ti lo leghi e ti lo giri da tutta la bocca lo porti su lo porti giù da un'altra parte ce li fai un po caro al giro e dopo lo mandi giù in senso che è buono perché devi mangiare lento anche la dentista mi ha detto più mangi veloce più ti rovini i denti è uguale perché io ho i denti rovinati io ho lavorato in fabbrica di sartoria 20 minuti erano era nella pausa che devevi dovevi mangiare andare in bagno bere il caffè fumare tutto quanto erano pochi minuti per fare tutte queste cose qua quindi mi sono abituata a mangiare in fretta io tante volte ehm mangio e mandavo ehm i pezzi quasi interi giù adesso no perché sono stata tre mesi in ospedale quindi ho cominciato a imparare qualcosa ehm però ti dico che anche con gli amici ehm ti metti all'inganno ti inganni eh questa volta eh prenderò poco e oggi un po' domani un po' ehm dopo si mettono il chi il grasso si mette si mette veloce ehm ti farò vedere una foto dove ero a 160 kg che non riuscivo nemmeno a camminare è dura quindi ti do un consiglio da obesa eh fai una cosa con gli amici fai una passeggiata eh i soldi che fai oggi a kebab domani con un altro amico dopo una settimana metti da parte e prendi un po' di croccantini si ami gli animali e vuoi da un canile e dargli da mangiare non lo so fai qualcosa che puoi aiutare il prossimo capito non voglio farti la lezione di bonismo però piuttosto farti male a te con quei soldi fai bene a qualcun altro non so prova io mi metto sempre compro sempre una macchina piena di mangiare per cani e gatti perché se andiamo sempre via ehm se trovo un cane o un gatto sulla strada io li devo fermare non mi importa dove li devo dare da mangiare fai una cosa che sia buona per te ho visto un altro ragazzo che ti ha scritto vivi la vita e sei sereno e tipo mangia che la vita è corta eh non sono di stessa opinione perché vivi e mangi che sei sereno e felice a 160 kg fino a diventare un viermi obeso che non si può alzare da divano io sto divano comincio lo amavo lo amo però anche odio su di lui perché io come obesa trovo tante scuse per non uscire fuori di casa per mangiare per fare tante cose quindi ehm siamo noi bugiardi noi obesi siamo bugiardi come le ragazze anoressiche quindi è stessa cosa siamo nella stessa barca ehm se tu fai ehm la colazione con te quattro fette biscottate e marmellata vedi te alle 10 prendi un spuntino una mela o un yogurt o la baretta di cereali con cioccolato anche perché ha 91 calorie poi alle 4 ti prendi un altro spuntino vedrai che quando arrivi alle 7 a 19 ehm se ti fai un'insalata mangi insalata ehm bistecca di carne quello che mangi tu eh non hai più quella fame io ho quella fame nervosa di riempirmi di da 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 proprio mamma mia mi veniva a mangiare anche il frigo quindi ehm devi stare tanto attento se non vuoi diventare una massa di lardo come me perché ehm è tanto è tanto doloroso ti lo dico io che sto soffrendo per questa cosa qua non vedo l'ora che mi chiamano per fare sto cazzo di intervento ehm chiedimi consigli che ti do volentieri da 156 kg fino a 137 kg ti dico che ho imparato qualcosa eh ti mando un forte abbraccio a te e a tutte le persone che mi capiscono mando un braccio a tutte le ragazze e ragazzi che soffrono di anoresia e anche di obesità che non è una cosa da ridere da prendere in giro perché non è non è da da scherzare su queste cose qua Gioia ti saluto ehm ti saluto anche la tua madre e guarda prova la sera ho provato io da fare le polpette di verdure allora eh servono quattro servono vedi tu in base a te quanti siete in famiglia io ho messo quattro patate due carote ehm la costa di la costa non la costa la costa perché serviva broccoli però io con i broccoli proprio non è che mi ammazzo tanto ho messo la costa ho frullato tutto con un po' di parmigiano un po' di olio ehm un po' di origano li ho frullati dopo ho fatto ho messo un pangrattato perché vengono delle polpette così li fai tre ting ting eh carta forno li metti sul carta forno queste polpette li metti un po' di olio ehm 220 gradi a 30 minuti li giri a metà cottura e sono buonissimi quindi sono solo verdura niente farina niente fritto in olio quindi ti do volentieri ho trovato anche un sito dove ci sono le calorie poi se vuoi ti do anch'io nella mia dieta ho ehm tipo la frutta quante calorie tipo 15 fragole hanno 8 calorie eh tu non non ti farai eh non stai a guardare queste cose qua perché ho capito che stai studiando qui però la tua mamma eh ti può fare eh conta tanto un aiuto eh di famiglia allora eh abbraccio tutti eh ho cancellato il primo video perché era troppo troppo ero troppo incazzata ecco io quando sento di obesità mi incazzo tanto perché mi odio quindi vabbè ciao e vi auguro una buona giornata ciao 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 ciao